Sindaco, lei amministra la più grande città dell'area metropolitana dopo Napoli e quindi naturalmente il suo impegno nell'ambito della definizione del piano strategico metropolitano è molto importante. Ha qualche suggerimento da dare rispetto alla definizione di questo piano? Io credo che l'area napoletana richieda un'attenzione particolare sul tema della vivibilità, della città sostenibile ma soprattutto la città vivibile. Questo è il suggerimento che abbiamo dato e anche il tipo di programmazione che noi stiamo facendo come città. Pensa che sarà importante anche la collaborazione tra enti locali confinanti per interventi più strutturali? Strutture e servizi nell'area napoletana e i problemi molto spesso sono sovracomunali quindi sovracomunali sono le risposte perché in genere si tende ciascuno con le proprie risorse ad affrontare il problema del quotidiano. Avere a disposizione una programmazione sovracomunale e la possibilità di sviluppare collaborazione ci dà la possibilità di affrontare problemi che altrimenti non vengono toccati nella ordinaria programmazione. Grazie.